Abbiamo ancora ovviamente problemi perché mancano i vaccini necessari, dobbiamo ancora completare le forze armate, le forze dell'ordine, dobbiamo soprattutto arrivare alle fasce deboli perché sono ancora in attesa disabili, persone fragili, malati cronici, diabetici, queste situazioni le conosciamo ma non ci sono i vaccini. Per questo motivo noi stiamo lavorando per cercare di approvvigionarci di vaccini anche all'estero. Forse ci saranno delle novità nella prossima settimana. Ovviamente stiamo cercando di approvvigionarci di vaccini ma avendo chiari due presupposti. La Campania non userà mediatori o intermediari. Noi parliamo ad aziende ufficiali e agli Stati. E in ogni caso i vaccini che saranno somministrati in Campania saranno vaccini valutati e approvati dalle autorità di controllo, l'EMA europea e perlomeno l'AIFA a livello nazionale. Vaccini non controllati e autorizzati non ne somministreremo. Detto questo e chiarito bene questo punto di principio, noi stiamo lavorando per approvvigionarci, se è possibile, di altri vaccini per completare la vaccinazione dei nostri concittadini. Dobbiamo arrivare a vaccinare oltre 4 milioni e mezzo di cittadini campani se vogliamo raggiungere l'immunità di Grecia.